Avrei avuto tanto piacere nel parlarvi in questo video di Fermana-Gubbio 1-1, della partita del Gubbio, cosa è andato, cosa non è andato, perché siamo riusciti a prendere il gol dell'1-1 dopo aver segnato l'1-0 al 91esimo con Portanova. Potevo parlare di tante cose, ma non posso farlo. Non posso farlo perché Eleven Sport ha deciso quest'oggi che la partita non si poteva vedere. Nessuno, me compreso, è riuscito a collegarsi per vedere la partita e quindi ce la possiamo solo immaginare. Possiamo soltanto basarci sulle statistiche, sul fatto che il Gubbio ha ottenuto un pareggio alla seconda giornata, che per carità in trasferta non è un male. Poi certo, vai a vedere comunque il fatto che segni al primo minuto di recupero e prendere gol nel 95esimo non è la cosa migliore. Ma a parte questo, veramente, non so che altro dirvi. Non so dirvi se sono contento di questo pareggio perché magari meritavamo di vincere avendo avuto più occasioni. Non posso dirvi di essere arrabbiato per altri motivi. Non posso dirvi se ci sono episodi arbitrali che potevano cambiare il corso della partita. Non lo so, non lo so. Ecco, io vi faccio comunque il video per rispetto, magari per chi se lo aspettava, ma sinceramente fatico a trovare qualcuno che possa giudicarle, possa dire cosa ne pensa. Io di solito vi direi, ditemi nei commenti cosa ne pensate della partita, ma se non l'ha vista nessuno penso che siete tutti quanti nella mia stessa barca. Quindi ecco, l'unica cosa che vi posso dire è che sono contento comunque di non aver perso, anche se comunque avendo segnato il primo minuto di recupero speravo che si potesse ottenere la vittoria. E basta, tutto qui. Grazie Leva Sport, adesso non sappiamo qual è stato il problema, speriamo che lo chiariscono il più possibile, ma tanto ormai la partita è andata e quindi dobbiamo solamente guardare a quella successiva e sperare appunto di riuscire a vederla. Non solo che il Gubbio vinca, ma almeno che noi possiamo vedere la partita e assistere a quello che riusciremo a fare. Ormai siamo questo, 2022, questa è la situazione. Un saluto a tutti ragazzi, sempre Forza Gubbio, alla prossima!